O Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi, così che la nostra ira possa diventare la tua. Colima, la picca è come la croce. Lei ci accompagna per l'intera nostra vita. Ma ricordati, dobbiamo avere rispetto per tutte le creature viventi. Eccetto che la polizia, i banchieri, gli usurai. Rubare a queste persone è permesso. Corri! Certo che ci ne hai messo di tempo a tornare. E che cosa vuoi fare? Diventare ricco? Era il pugnale che ti ha ferito. No, è un tatuaggio. Un tatuatore è come un confessore. Lui scrive la storia di un uomo sul suo corpo. Abbiamo detto il giusto. Il giusto non è esistito mai. Qualcosa di terribile è accaduto a Xenia. Devi trovare chi è stato. Significa che hai il diritto di usarla per uccidere chiunque dovrà essere ucciso. Così è colpa mia. Stai facendo l'errore più grande della tua vita. La fame viene e scompare. Ma la dignità, una volta persa, non torna mai più. Un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare.